Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco di Fossa Cesia, la Costa dei Trabocchi quindi ha avuto questo grande slancio con il Giro d'Italia, ma ora si pensa alla prossima estate, come vi stiate organizzando? La costa è partita, è partito questo territorio, ovviamente come la bella vetrina che tutto il mondo ha visto, adesso siamo noi che dobbiamo servire chi entra in questo negozio, che è la costa dei Trabocchi, ma la costa in generale di questo territorio e noi siamo pronti, tutte le amministrazioni comunali hanno messo più passione, più impegno, più tenacia e soprattutto più convinzione che il turismo è fondamentale per far crescere il nostro territorio. Ci siamo, siamo partiti e la bella vetrina sarà anche il bel negozio. Ovviamente c'è tanta movida a Fossa Cesia. Sì, Fossa Cesia in particolare si è un po' distinta in questi ultimi anni per la movida, ma una movida semplice, sono giovani che vengono che impegnano anche le attività di ristorazione, alberghi e quindi anche la movida fa parte della nostra offerta e promozione turistica. Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni, quindi dopo questo boom per la costa dei Trabocchi si pensa all'estate? Sì, sicuramente, il Giro d'Italia è stato un banco di prova riuscitissimo da parte di tutti i comuni della costa, quindi se abbiamo ottenuto un risultato positivo per quanto riguarda il Giro, dobbiamo continuare con questo trend e ce la possiamo fare. L'estate è alle porte, ovviamente Rocca San Giovanni ha questa doppia struttura morfologica, quindi abbiamo il mare che è in grado di attrarre turisti, l'obiettivo è quello di organizzare diversi eventi sulla costa e di portare i turisti che visitano il paese anche nel borgo, per creare sempre di più questo legame borgo-mare, con al centro tutto il verde, le riserve, la riserva naturale, il SIC che sono il polmone verde nel nostro territorio. Paola Basile, assessore alle attività produttive e al turismo di Casalbordino, come ci si prepara l'estate? L'estate sicuramente è alle porte e noi siamo pronti ad accogliere sicuramente tanti turisti che verranno e sceglieranno il nostro territorio, è un territorio sicuramente ricco di tante peculiarità, sia enogastronomiche, che si estende poi a livello culturale e quindi noi siamo pronti a braccia aperte ad aspettare questi turisti e secondo le strutture recettive abbiamo sicuramente avuto anche tanti consensi e questo sicuramente ci dà lustro e ci dà uno slancio in più per far sì che il nostro territorio venga proprio conosciuto a 360 gradi.